Sì, sono contento che sei tornato. Stiamo aspettando l'autorizzazione per abbattere gli olive. Ma che abbatterli? Sei impazzito. Perché? Mi stanno l'ultima lave degli alberi. Nica, qua c'è gente che è inquinata in testa. Non li vede, è morto. L'ha detto pure l'agronomo. Che sono io? E tu sei studentista, no? Non è mica la stessa cosa. Signora, dai, così fuggiamo qua, dai. Tu qua non ci devi mettere più piede. Ma perché non vai dalla polizia? In natura, ogni predatore diventa la preda di qualcun altro. È un equilibrio, funziona così. Che qua non stiamo è stato di natura, no? Oh 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 oh